La scuola dell'Orciolaia è pronta per l'anno che sta per cominciare. Da lunedì 11 settembre riaprirà il servizio d'infanzia con un solo giorno di ritardo rispetto al calendario ufficiale. Qualche giorno di attesa invece per il nido che entrerà a pieno regime a partire da lunedì 18 settembre. Nei cinque giorni di intervallo rispetto all'inizio ufficiale, i servizi educativi del Comune di Arezzo hanno provveduto a garantire una risposta a quelle famiglie che hanno manifestato la loro impossibilità organizzativa. Definitivamente ultimati quindi lavori per l'eliminazione dell'amianto già incapsulato precedentemente, un intervento di manutenzione bonifica ambientale ha interessato la pavimentazione dell'immobile. Dopo il via libera dell'Asla per la chiusura del cantiere, arrivato solo nella seconda metà di agosto dopo le verifiche effettuate dal laboratorio di analisi, la ditta incaricata ha proceduto immediatamente ad effettuare gli ultimi lavori necessari per la piena agibilità della struttura, commentano il vice sindaco Tanti e l'assessore Casi. Il ritardo nella lettura dei risultati da parte del laboratorio per responsabilità di nessuno ha fatto perdere quasi un mese di tempo alla ditta che aveva finito i lavori a fine luglio. Da qui concludono un piccolo ritardo di uno e cinque giorni.